Amici sportivi amanti dell'hockey, AGP's back! L'hockey è tornato prima di questa vacanza perché ci sono i mondiali in Argentina. Buonasera da Gaetano De Benedetto, l'imperatore delle telecamere, il regista felliniano della stecca e dei pattini. Tanto è iniziata la partita ora con il tocco di festa, è festa! Che fantastica, fantastica, Sergio, festa! È fantastica, fantastica, Sergio, festa! Sergio, festa, Sergio, festa! Ha fatto gol! È festa! Fiesta! 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 Ducchiatti, c'è il fischio e c'è il blu di Tatarani che ha continuato, per Tatarani che ha continuato a protestare la parata di Verona. Giero García intanto è entrato di Rinaldi, c'è il gol di Borsi! Davide Borsi sfrutta il power play! E Borsi! 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 C'è anche Cane, c'è il gol! Eccolo lì il gol che accorcia le distanze! Lo ha segnato Maximiliano Oruste! Esattamente all'ottavo minuto e nove secondi! Oruste dalla distanza, prova ad andare via Facundo! E Facundo, rigore e blu! Era più veloce Facundo con la pallina! E Mazzà, il gol di Ranzi! Borsi! 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 E Borsi! 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 Va subito a recuperare Tatarani e c'è il rigore! Mazzà steccata la mano trovata da Molli con agli apparati valanghe e continua però Tatarani prende la respinta e segna provato di volo Orostè il palo di Borsi vediamo e c'è il blu è fuori fuori il tiro di Agarnovas che poi recupera para Corona poi Tatarani ancora Corona lo scarica avanza Brusa va Brusa c'è si agganciano c'è il decimo fallo fallo di fallo di di Bruno Alonso su Brusa Orostè contro Corona Orostè segna il pareggio di il pareggio di Max Emiliano Orostè al 15-21 il cronometro viaggia 4 minuti e 15 sempre 3-3 e sbaglia Verona e incredibile errore di Verona segna García Bielsa incredibile dal 20-50 Vercelli regala letteralmente il gol del 4-3 mentre Vercelli tarantolato reagisce e c'è il gol del 5-3 il gol del 5-3 non c'è più tempo 5 secondi 4-3 2-2 e c'è il gol c'è il gol di Orostè a un secondo a un secondo al 24-58 Sardana batte Vercelli 4-5 a 4 non c'è più tempo